Un like su Instagram può non avere alcun significato e, allo stesso tempo, nascondere un senso profondissimo. È chiaro che se gli interessati in questione sono Ilari Blasi e Francesco Totti, protagonisti del matrimonio e della separazione più celebrate degli ultimi 25 anni in Italia, si tende a propendere per la seconda possibilità. Nel caso specifico, si è trattato di un'azione social dell'ex capitano romanista assolutamente imprevedibile, che ha alimentato interpretazioni di ogni tipo ed ha certamente sorpreso i molti seguaci dei due personaggi. Francesco Totti ha infatti firmato con un mi piace la foto di Ilari Blasi a cena con le sue amiche da Rinaldi al Quirinale, uno dei ristoranti del cuore di Totti e Blasi prima che i due si separassero. L'immagine è stata pubblicata dal titolare del locale, Vincenzo, vecchio amico del capitano e della conduttrice televisiva e, forse per nostalgia, ma comunque senza badarci troppo, Francesco Totti ha fatto partire un lichè dal suo profilo, che ancora campeggia sotto l'immagine. Un consenso, quello di Totti, che appare tuttavia strano soprattutto alla luce della compagnia di Ilari Blasi, che oltre a Ughetta di Carlo e Michela Quattrociocche, al ristorante ci è andata anche con Alessia Solidani, parrucchiera e baccio destro di Blasi, colpevole di aver fatto da ponte tra Ilari Blasi e il personal trainer Cristiano Jovino per il famoso caffè di cui la conduttrice parla nel documentario Netflix Unica.